Porto è aperto, chi impedisce a una nave di venire in un porto per salvare vite umane, chi mette a rischio vite umane non ha solo un comportamento indegno, vergognoso, eticamente riprovevole, ma commette un reato. A mio avviso è un crimine contro l'umanità e sarà chiamata a rispondere davanti ai tribunali internazionali. Il prossimo passaggio sarà un esposto alle autorità giudiziarie competenti, se questo non accadrà. Salvini ha costruito quella parte di Europa diseguale ed ingiusta. A me fa un po' ridere che oggi Salvini si presenta come colui che vuole l'Europa diversa. Salvini è quello che ha votato il pareggio di bilancio, il fiscal compact, che è stato nei governi in cui si è dato manforte all'Europa delle disuguaglianze, all'Europa della disattenzione, all'Europa che ha lasciato solo l'Italia. Salvini ha fatto parte anche lui di governi che hanno dichiarato guerre, da cui derivano le migrazioni. Che lui è il carnefice e oggi fa la vittima mi sembra un po' curioso. Guardate, noi sindaci, io come sindaco di Napo sarei il primo che potrei dire ma noi come facciamo ad accoglierli? Non abbiamo risorse economiche, non abbiamo luoghi, ma qua stiamo nella precondizione della comunità di esseri umani.